bella ragazzi benvenuti sul mio canale io sono simo play oggi siamo di nuovo insieme per parlare di football 2022 ragazzi è successo prima o poi doveva succedere ed è successo i football 2022 è stato ufficialmente nominato il peggior gioco dell'anno adesso vi darò più dettagli vi spiegherò cosa è successo quindi mi raccomando se vi interessa l'argomento guardare tutto il video prima di andare avanti vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere tutti i prossimi contenuti e a lasciare un bel mi piace per supportarmi inoltre voglio ricordarvi che questo video offerto dalla galactic games sd potete comprare tutto il nostro merchandise in tramite il link che vi lascio in descrizione è un ottimo modo per supportarci quindi mi raccomando se avete la possibilità fatelo ok ragazzi qui siamo su un portale online di informazione per quanto riguarda i videogiochi multiplayer sicuramente lo conoscete comunque ho preso un articolo a caso giusto per spiegarvi la situazione metacritic sta pubblicando i suoi risoconti di fine anno essendo un aggregatore di vote da parte di critiche utenti è interessante notare anche la classifica dei 10 peggiori giochi del 2021 che mostra come i football 2022 in particolare per quanto riguarda la versione pc ma anche per le console ha avuto critiche e voti negativi sia considerato il peggiore in assoluto il peggior gioco in assoluto dell'anno ovviamente per chi si chiedesse cosa è metacritic metacritic come dice google è un sito web statunitense che si occupa di aggregare recensioni dedicate ad album musicale film o videogioco per ogni prodotto praticamente unisce le critiche dei player e dei critici che lo fanno di professione poi somma e fa una classifica dei peggiori giochi e anche dei migliori giochi che ci sono durante l'anno solare comunque al di là di questo vi dico più o meno cosa ne penso ragazzi sicuramente c'era da aspettarselo per tanti motivi per il gameplay che non è un granché certamente a qualcuno può piacere per le modalità che sono assenti ma una cosa voglio sottolineare secondo me fino alla fine anche se c'era da aspettarselo perché gli utenti ovviamente hanno perso la pazienza per questo motivo non è davvero un giudizio finale perché come ben sappiamo il gioco deve ancora subire tanti aggiornamenti deve subire delle modifiche ma soprattutto devono uscire le modalità principali che saranno l'anima del gioco cioè come fai a dire che è stato il peggior gioco dell'anno senza nemmeno aver visto le modalità possiamo dire che è stato il peggior gameplay dell'anno che ha avuto il peggior gameplay dell'anno quello sì ma addirittura il peggiore gioco dell'anno mi sembra un po' esagerato ma perché ho detto più volte che secondo me c'era da aspettarselo perché sempre secondo mia opinione il titolo di peggior gioco dell'anno in questo caso non è stato assegnato perché il gioco è veramente bruttissimo anche se a me personalmente non piace ma è stato assegnato più che altro per la rabbia delle persone che hanno votato in generale sia degli utenti ma anche dei critici rabbia che ovviamente proviene dalla mancanza di modalità e dalle prese in giro che continua a fare konami quindi è inevitabile era inevitabile è stato inevitabile questo titolo di peggiore gioco dell'anno perché konami se l'è cercata cioè ci ha sfottuto ha sfottuto tutti gli utenti ci ha fatto i dispetti ha rimandato ha rimandato ha rimandato e ovviamente poi gli utenti quando vanno a votare votano con la rabbia senza nemmeno riflettere sul fatto che effettivamente il gioco al 100 per cento non lo abbiamo ancora provato perché anche se adesso è pessimo le modalità ancora devono uscire magari poi con l'aggiornamento 1.0.0 e le varie modalità diventa il gioco più bello del secolo questo non lo possiamo sapere anche se ho i miei dubbi perché comunque non siamo sulla buona strada però tutto può succedere io ci spero ragazzi io lo sapete questo canale si basa sui football quindi ci spero tantissimo però come ho detto poco fa è stato un giudizio ovviamente che secondo me non è derivato dal fatto che sia veramente un gioco schifoso ma è derivato dalla rabbia dei player che giustamente sottolineo giustamente sono arrabbiati perché non hanno nulla da fare sul gioco ci ripropongono eventi inutili eventi su eventi e tra l'altro alle volte sono anche gli stessi eventi cioè non hanno nemmeno l'intelligenza e diciamo la bella faccia di cambiare gli eventi proprio non se ne fregano niente quindi come già detto secondo me questo voto è arrivato proprio dalla rabbia degli utenti sta di fatto che comunque sulla carta per adesso i football 2022 è il peggior gioco dell'anno speriamo che si possa riprendere ovviamente con i vari aggiornamenti speriamo che diventi davvero magari il miglior gioco del secolo fatemi sapere nei commenti voi che ne pensate io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia noi ci vediamo al prossimo video un abbraccio un saluto dal vostro ultimo play bella ragazza ciao 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 ciao